Nel segno della continuità, dopo le elezioni che hanno visto la riconferma del sindaco Francesco Bruno, la nuova amministrazione comunale di Belmonte Calabro, centro del basso di Reno Cosentino, ha ripreso un lavoro volto alla crescita e allo sviluppo del territorio, il tutto in proiezione della stagione estiva e al di là dei continuitagli a cui sono sottoposti gli enti locali. La continuità in effetti è un compito primario perché tutte le amministrazioni che si possono avvicendare e che si riconfermano non possono non tener conto del lavoro che si è fatto e poi per cercare di definirlo, portarlo a compimento, unendo altre nuove iniziative e programmi che siano i programmi dell'amministrazione che si propone. Quindi sulla base di questo, tenendo conto delle condizioni economiche e finanziarie e sulla base dei tempi che in effetti si avvicinano. La stagione estiva è uno dei nostri primi obiettivi che era già previsto nella campagna elettorale, quello di tenere cura alle condizioni che sono prioritarie per incrementare e rendere più agevole il turismo, il richiamo da parte di cittadini che vogliono visitare Belmonte, e quindi la cura del territorio, la cura della spiaggia, il mare e quant'altro è legato all'ospitalità turistica e al mantenimento dei servizi primari che sono il biglietto, io credo, di visita per ogni paese. Non facile gestire per una realtà come Belmonte, che abbiamo 11 nuclei abitativi, con l'obbligo e la necessità di fornire servizi, appunto i servizi primari, che sono l'illuminazione pubblica, la rete fogliaria, la rete idrica, la viabilità.